Di che cosa si occupa Blue Assistance e come è evoluta nel tempo? Blue Assistance è una società di assistenza, è una società di assistenza che lavora per conto delle compagnie assicurative, delle banche, degli intermediari in genere, ma anche direttori sul mercato. È nata più di 30 anni fa nel mondo reale mutua e lavora fondamentalmente nel settore del soccorso stradale e soprattutto in modo particolare nel mondo della salute. Questa attività che noi svolgiamo ormai da molti anni ci mette in contatto direttamente con tutte le strutture sanitarie che sono presenti sul territorio. Noi oggi abbiamo un network qualificato selezionato in questi anni di lavoro di circa e di oltre 4.000 strutture, strutture che si occupano di medicina generale, studi medici, studi odontoiatrici, diagnostica e anche ovviamente cliniche ed ospedali. Queste strutture sono molto importanti per noi perché riusciamo attraverso queste strutture a soddisfare le esigenze degli assicurati, delle compagnie assicurative per le quali Blue Assistance lavora. Il Blue Assistance ha una realtà solida presente qui in Torino con circa 400 persone che lavorano all'interno ed in modo particolare dispone di una centrale operativa e di una struttura di medici consulenti che sono proprio qui all'interno del nostro mondo. Attraverso la centrale operativa entriamo in contatto ogni giorno con le persone che ci chiamano, riceviamo quasi 5.000 telefonate al giorno proprio per soddisfare le loro esigenze, informazioni, metterle in contatto con i medici, prenotare delle analisi cliniche o addirittura dei ricoveri. Le eseguiamo passo passo in ogni loro momento, in ogni loro esigenza e cerchiamo di essere soprattutto molto rapidi e molto veloci e per questo anche che la centrale operativa è aperta 7 giorni su 7 per 24 ore. Ecco lo diceva, sia Reale Mutua che Blue Assistance hanno sede a Torino. Qual è il legame con il territorio in cui avete la sede? Il legame è fortissimo, Blue Assistance è una società di Reale Mutua e la Reale è nata quasi 200 anni fa proprio qui a Torino, dunque il legame col territorio è molto forte, ci sono proprio delle iniziative specifiche che sono state fatte nel nostro contesto, nel mondo della salute proprio qui a Torino, per esempio l'hub vaccinale che abbiamo aperto sotto il Covid è stato uno degli hub privati più importanti d'Italia con circa 150.000 inoculazioni, dunque è un legame veramente molto forte, ma al di là di questo legame oggi Blue Assistance è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale perché i clienti del gruppo Reale e delle altre compagnie per le quali Blue lavora sono presenti in tutto il territorio e quindi da qui l'esigenza di avere un network così diffuso proprio per essere presenti sul territorio laddove è necessario. Per chi si occupa di salute il 2020 è stato un anno molto particolare che ha segnato anche una presa di consapevolezza e tanti cambiamenti che sono stati fatti poi negli anni successivi. Dal vostro punto di vista che cosa è cambiato dopo la pandemia, che cosa avete imparato e magari quali servizi avete implementato? Abbiamo imparato tantissimo, soprattutto abbiamo imparato a poter operare direttamente ed esclusivamente da casa. Oggi Blue Assistance con i suoi operatori può operare anche in caso in cui la sede non sia agibile, quindi grazie allo smart working, grazie alla connessione che oggi noi abbiamo possiamo risolvere le questioni dei nostri assicurati anche se fossimo tutti quanti a casa. Questo è stato un upgrading tecnologico veramente importante, un vero e proprio disaster recovery di ultimissima generazione. Ma ancora più importante è stata l'accelerazione che il lavoro che avevamo iniziato pre-Covid sulla telemedicina ha avuto. Infatti ovviamente durante il Covid, quando le strutture sanitarie sono state quasi interamente dedicate alla cura di questa grave pandemia, abbiamo dovuto utilizzare la telemedicina per arrivare a casa delle persone. E proprio grazie all'esperienza che noi abbiamo fatto in questi contesti che abbiamo fatto nascere successivamente una nuova società nel mondo della salute che si chiama Blue Health Center e grazie a Blue Health Center noi oggi siamo la prima struttura sanitaria digitale autorizzata dalla regione Piemonte e che ovviamente può operare su tutto il territorio nazionale. Questa piattaforma, nata grazie all'esperienza che abbiamo avuto durante il Covid, ci consente di mettere a disposizione delle persone con un semplice click un medico generico, uno specialista, tutto il nostro network e anche la consegna dei farmaci, oltre ad una serie di iniziative che riguardano il Mental Health. Un prodotto molto interessante che sta raccogliendo davvero un'importante accoglienza soprattutto da parte delle aziende, aziende che vogliono dedicare questa piattaforma a tutti i loro dipendenti, anche grazie al favore generato dalla normativa legata ai Flexible Benefit e che quindi dà un servizio vantaggioso ai dipendenti delle aziende con un aggravio fiscale praticamente azzerato. Come si integra dal vostro punto di vista l'offerta pubblica e quella privata per quanto riguarda i servizi legati alla sanità? Direi che si integra adesso purtroppo non benissimo, o meglio ci sono tante aree di miglioramento, è molto importante che il sistema sanitario centrale prenda atto del fatto che il mondo privato nella sua complessità è un mondo privato che ha un impatto importantissimo sul mondo della salute. Non lo dico soltanto per i 40 miliardi della spesa out of pocket che gli italiani sostengono ogni anno, ma lo dico soprattutto perché una migliore integrazione tra il sistema pubblico e il privato può essere solo un vantaggio per i cittadini italiani. È importante che si tenga conto del fatto che le compagnie assicurative e le società di assistenza come Blue Assistance svolgono un ruolo determinante ogni giorno, perché in realtà come Blue Assistance dispongono di centrali operative che parlano con le persone di salute tutti i giorni, perché in realtà come Blue Assistance gestiscono ogni giorno centinaia di migliaia di casi sulla salute. Quindi il sistema centrale, prendendo atto del fatto che esistiamo anche noi, che c'è il pubblico e che c'è la struttura sanitaria privata, sicuramente può creare un nuovo sistema che consenta di alleviare quelle problematiche che sono ormai a tutti quanti noti. Non si può più soltanto immaginare che la soluzione del problema del sistema sanitario sia legato ad una maggiore affluenza di soldi. Certamente sì, i soldi sono importanti, gli investimenti sono importanti, ma è anche importante guardare in modo nuovo, con occhi nuovi, ai problemi della salute. Per esempio integrando strumenti come la telemedicina, di cui parlavamo prima, perché inserire la telemedicina nella giorni del paziente può per esempio sgravare il sistema sanitario nazionale. Far crescere le forme private, assicurative e soprattutto la possibilità di collocare servizi assicurativi, ancora una volta può sgravare il sistema sanitario nazionale da quelle attività che hanno un livello di difficoltà meno complesso, ma una grande numerosità, quindi lasciando al sistema sanitario nazionale la possibilità di concentrarsi sulle acuzie, sulle pandemie, sulla prevenzione, su quelle cose che sono davvero importanti e corpose in una perfetta integrazione con gli altri operatori del mercato. Quali sono le sfide aperte per il futuro per Blue Assistance? Beh, Blue Assistance vuole continuare a crescere in questo contesto, tra l'altro non abbiamo detto che Blue Assistance è una società che lavora anche all'esterno del gruppo reale, quindi Blue Assistance può operare per tutti gli operatori del mercato italiano, indipendentemente dal gruppo reale. Siamo una realtà che ha un suo marchio, un suo brand e che quindi viaggia in maniera anche autonoma da questo punto di vista e per noi è un, oltre che un valore aziendale, è anche un dovere quello di consentire anche ad altre realtà di entrare nel mondo della salute perché la nostra idea è che più competitori ci sono sul mercato della salute, più operatori ci sono e più riusciremo a dare delle risposte ai problemi della salute che non potranno che crescere in virtù del fatto che la popolazione invecchia, in virtù del fatto che siamo sempre più soli, in virtù del fatto che nella longevità abbiamo molte cronicità, quindi è molto molto importante anche grazie a questi momenti di comunicazione diffondere questo tipo di notizie e far sì che molte più realtà possano lavorare insieme in questo contesto.